telemaco signorini nacque il 18 agosto 1835 a firenze figlio di giustina santoni e di giovanni signorini ecco questa è una cosa fondamentale cioè telemaco era un figlio d'arte nel senso che suo padre giovanni signorini era un pittore si può dire di corte nel senso che lavorava proprio per la corte degli habsburgo lorena che avevano preso il potere a firenze una volta caduto napoleone cioè dopo il congresso di vienna ecco telemaco signorini però era un pochettino più come dire divergente rispetto al padre che era un po allineato con il potere infatti era un tipo abbastanza estruso e quindi aveva tentato gli studi classici poi però aveva anche questa passione per l'arte che del resto suo padre indubbiamente gli aveva trasmesso e l'aveva portata fino al fondo nel 1852 si iscrisse all'accademia di belle arti ma seguì i corsi in modo un po svogliato ci ricorda qualcosa questo si ci ricorda giovanni fattori che era ancora più scapestrato insomma rispetto a telemaco signorini e anche lui aveva vissuto questo periodo dell'accademia in modo molto originale mettiamola così e non appunto disciplinato studente di questa accademia infatti telemaco signorini come giovanni fattori covava il desiderio di smarcarsi dall'accademismo cioè da questo modo di dipingere o comunque di concepire l'arte e la cultura piuttosto passatista piuttosto conservatorista e quindi voleva innestare una linfa nuova e infatti si trovò subito con degli amici proprio come il giovanni fattori di cui abbiamo parlato l'altra volta nel nell'incontro precedente e infatti si trovò al caffè michelangelo insieme agli altri macchiaioli sempre un po particolare però questo teniamo con signorini perché era anche molto attento all'arte straniera in particolar modo all'arte all'arte francese e poi forse un po meno goliardico rispetto a giovanni fattori era comunque anche un appassionato lettore un critico si può dire e infatti fu proprio telemaco signorini quando qualcuno andò a diciamo come dire a a marchiare questi giovani pittori come pittori dilettanti pittori incapaci di sfumature e quindi li definì macchiaioli fu proprio telemaco signorini a prendere la palla al balzo e ad assumere quindi accogliere questo 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 nomignolo insomma di di macchiaioli perché per lui poteva diventare qualcosa di programmatico e insomma telemaco signorini insieme a diego martelli anche il grande teorico di questo gruppo di pittori dei macchiaioli ecco dopo di che si recò con degli amici altri pittori che si chiamavano vincenzo cabianca per esempio e anche il bantino sono altri due pittori fiorentini chiamiamoli così macchiaioli minori invece parecchi viaggi infatti era uno che viaggiava tanto a differenza di giovanni fattori e vedremo la volta prossima silvestro lega molto molto legati alla toscana e quindi magari come abbiamo visto fattori vedremo lega producevano le loro tele spesso anche in residenze o ville di amici invece il nostro telemaco signorini sì le residenze degli amici le andava a cercare ma non solo in toscana le andava a cercare anche in francia in inghilterra e poi anche nei pressi di la spezia infatti poi dopo vedremo lo possiamo vedere subito ecco andiamo a vedere subito questo quadro che è molto interessante e significativo andò a visitare in modo particolare era affascinato da uno dei cinque paesi delle famose cinque terre cioè rio maggiore ora potete immaginare le cinque terre così come le vediamo noi oggi bene le vediamo essenzialmente come un posto incantevole perché si tratta di come dire di di paesini sulla costa ricordate c'è la passeggiata degli innamorati insomma ci sono sicuramente persone spero di non ecco ecco sì che non si sia interrotta la mia connessione con gli amici di instagram ecco vi stavo dicendo paesaggi incantevoli sul mare spiagge passeggiate lungo la costa oppure navi barche porticciuoli fantastici memorabili ebbene invece lui era attratto dall'interno del di questi paesi e quindi rappresenta sempre come per esempio in questo caso una conversazione fra donne alcune che fanno la maglia altre che accudiscono il loro bambino neonato o comunque piccolo e chiacchierano eccetera e quindi sicuramente un modo di vedere la realtà ecco ecco il punto fondamentale che caratterizza l'arte di telemaco signorini molto attento molto accurato quindi a bando ad ogni romanticismo bando ad ogni idealismo la pittura di telemaco signorini anche se questo comunque uno degli ultimi suoi quadri nel 1894 si caratterizza subito per questa desiderio di rappresentare la realtà così com'è senza infingimenti cioè senza travisamenti senza finzioni quindi fa un viaggio alla spezia poi ritorno a firenze ecco tra l'altro telemaco signorini esattamente come gli altri macchiai oli forse ancora di più è implicato nella guerra di indipendenza per esempio la seconda guerra di indipendenza e combatte ed è un acceso fautore del partito d'azione praticamente del partito garibaldino dopodiché appunto si reca a parigi come vi stavo dicendo dove diventa amico di jean baptiste camille coro era comunque affascinato anche dalla pittura realista precedente quella di courbet di mie poi ritorna in italia soggiorna a castiglioncello e così fonda con silvestro lega di cui parliamo una volta prossima e con il borrani la scuola di piagentina dal nome della località fiorentina dove erano soliti dipingere all'aperto prendendo ispirazione dalla natura e dalla muttevolezza stagionale quindi magari dipingendo lo stesso soggetto naturale paesaggistico in più periodi dell'anno ecco appunto la volta prossima infatti chiuderemo il cerchio delle nostre puntate sui macchiaioli con silvestro lega e con gli altri macchiaioli che che ci rimangono appunto da da vedere signorini andò spesso a parigi signorini andò in inghilterra signorini divenne un pittore apprezzato anche all'estero andò anche in scozia i suoi quadri furono comprati quindi diciamo a differenza per esempio abbiamo visto la volta scorsa di giovanni fattori che insomma doveva sempre un po sbarcare lunario e viveva sempre un po in miseria invece tenemaco signorini si fece apprezzare e si fece anche pagare all'estero però all'estero come abbiamo spiegato ci andava non solo per per vendere tra virgolette ma anche per conoscere per intrattenere rapporti con impressionisti come dega mané monè subendo da loro un influsso particolare avvertibile in alcune opere continuo a viaggiare nelle nelle zone della marna e della senna quindi lungo i fiumi di francia dicevamo in inghilterra scozia sì ma anche a napoli poi visito cenizio l'elba ecco adesso poi vedremo la il carcere praticamente il bagno penale di porto ferraio e soprattutto rio maggiore questo paesino che lo ispirò particolarmente diciamo che questo fu anche la di anche modo a te nemmaco signorini di rinnovare la sua visione pittorica e se vogliamo anche di smarcarsi dalla dall'iniziale così pittura macchiaiola a macchie e intraprendere anche nuove strade bene adesso andiamo a vedere questo quadro molto importante vediamo se riusciamo però ovviamente a mamma mia se riusciamo a ingrandirlo andiamo ad ingrandire questo quadro cerchiamo di vederlo meglio nella testimonianza di quella che la prima fase della pittura di te nemmaco signorini nella quale compare decisamente anche il tema della risorgimento quindi della politica il tema della guerra perché abbiamo spiegato che vive in prima persona e anche con grande trasporto la vicenda della liberazione dell'italia dagli oppressori stranieri qui abbiamo per esempio l'artiglieria toscana a monte chiaro salutata dai francesi feriti a solferino siamo appunto nel 1859 quindi seconda guerra di indipendenza e questo bozzetto insomma questo questo quadro viene acquistato dal principe di caregnano oggi conservato a valdagno nella collezione gaetano marzotto e bisogna notare il vigore l'immediatezza della ripresa dal vero come se fosse una fotografia in cui fissare anche alcuni gesti o posizioni del corpo molto molto dinamiche la stesura a macchie senz'altro per esempio le bianche architetture non so se vi ricordate in vedetta di giovanni fattori che abbiamo visto la volta scorsa l'azzurro del cielo ecco a proposito di macchie ci sono delle stesure proprio di colore che si possono intuire il verde del paesaggio all'orizzonte anche lo vedete lì in fondo le tinte scure si addensano in primo piano e definiscono le masse dei soldati e le ombre in contrasto con il selciato invece che è assolato e quindi la luce piuttosto forte appunto del sole piuttosto invadente quasi oserei dire del sole bene questo quadro però ci serviva proprio per capire anche l'ispirazione politica che è molto presente nella prima fase della pittura di di telemaco signorini ma è arrivato il momento adesso di andare a vedere altri quadri importantissimi per esempio l'alzaia facciamo così partiamo sempre se possibile da wikipedia perché wikipedia ecco ci presenta questi suoi capolavori per esempio l'alzaia che del 1964 quindi è un dipinto che è stato realizzato pochi anni dopo l'artiglieria toscana montechiaro che abbiamo visto poteva essere del 59 massimo 60 siamo nel 1900 1864 ecco qui abbiamo un'altra tematica importante di telemaco signorini che è quella della denuncia sociale la denuncia sociale di quelli che sono gli inferni se vogliamo della della società del suo tempo uno di questi è sicuramente lo sfruttamento degli operai e lo possiamo capire lo possiamo intuire dalla così dalle schiene curve di questi operai che trascinano una chiatta lungo il fiume arno faticosamente spingendo con le corde spingendo appunto questa questa chiatta pesantissima scrive lo stesso telemaco signorini nel 1864 fece un quadro dei miei più grandi con molte figure quasi al vero che tiravano una barca contro la corrente dell'arno l'alzaia è un dipinto che denuncia la fatica degli alzaioli dell'arno controcorrente va questa barca quindi la fatica è moltiplicata e decuplicata come vedete ci sono cinque operai che spingono uno solo di essi guarda verso di noi cioè guarda verso gli spettatori c'è molta amalezza cruda rappresentazione di questa fatica perché questi operai sono assimilati a degli animali insomma nel senso che l'unica cosa che che li caratterizza deve essere questa forza bestiale che deve servire per appunto portare avanti questa chiatta lentamente e faticosamente c'è un evidente contrasto fra le classi sociali in questo quadro infatti spero che voi riusciate tutti quanti a vedere sulla sinistra un gruppo di due personaggi che sono completamente diversi sono in secondo piano qui sulla sinistra e sono completamente diversi rispetto ai personaggi in primo piano andiamo a vedere se ecco no purtroppo diciamo qua manca proprio il pezzo si vede magari un animaletto un cagnolino ma non riuscite a vedere questo particolare vediamo se ci sono dei particolari questo però è particolare proprio degli operai e quindi non c'è in questa visione il particolare che vi volevo far vedere che avevo preparato ovviamente nelle slide che poi però insomma ho dimenticato vediamo un po se così riuscite a vederlo in questa versione ecco adesso c'è proprio il particolare dei borghesi vediamo se no non si non si ingrandisce non si ingrandisce questo quindi vabbè dovete un po ecco intravederlo da qui vediamo un po se riuscite a vederlo minimamente sì si tratta praticamente di un signore con un cappello una sorta di bombetta piuttosto alta è quella che potrebbe essere sua figlia la figlia tra l'altro si gira si volta mentre quel signore borghese volge il suo volto da tutt'altra parte rispetto al lavoro faticoso degli alzaioli quindi degli operai che stanno trascinando la barca ecco è evidente il contrasto fra le classi sociali infatti il bambino il signore non conoscono la fatica sono lì spensierati e facendosi magari la loro passeggiata totalmente anche indifferenti a quello che sta avvenendo anche il dolore la fatica che invece caratterizza gli operai in primo piano è una denuncia sociale importante stavamo dicendo infatti che terremaco signorini ha una coscienza di quelle che sono le problematiche sociali del tempo politiche e sociali del tempo e lo lo dimostra anche attraverso questi quadri come l'alzaia bene adesso andiamo a vedere la sala delle agitate al san bonifazio quindi alla un ospedale l'ospedale di san bonifazio siamo nel 1865 l'anno seguente il nostro trittico dell'inferno di terremaco signorini si sta componendo dopo la fatica degli operai infatti abbiamo questo quadro molto molto particolare che ci rappresenta la sala delle agitate quindi delle pazze al san bonifazio in firenze si tratta di un ospizio che c'è a firenze quindi in buona sostanza questo è il manicomio è un posto quindi caratterizzato da persone che hanno perso la libertà sono costrette a lì in questo posto ci sono delle grate comunque indubbiamente un posto dal quale non si può scappare e poi caratterizzate da gesti inconsulti però forse anche di ribellione come quello di questa vecchia pazza che viene rappresentata qua in basso a sinistra oppure addirittura dal sonno dall'incoscienza dalla dalla stanchezza insomma che caratterizza altre delle pazze che si trovano qui addirittura anche stese o sedute con con la testa rivolta verso l'alto è un quadro dicevamo del 1865 conservato nella galleria d'arte moderna a capesaro galleria d'arte moderna di capesaro a venezia allora qui abbiamo un reparto psichiatrico femminile dell'antico ospedale di san bonifazio di firenze popolato da un numero di donne chiamate così le agitate cioè malate di mente in preda a forti manifestazioni di eccitamento oppure di straniamento o intendo dire di perdita di coscienza magari anche per via di medicine o altri intrugli che dovevano calmare queste pazze non più che esseri esseri viventi più che donne sono davvero delle recluse sembrano provenire da una bolgia infernale ecco l'inferno diciamo abbiamo visto il primo inferno quello degli alzaioli che sono costretti quasi con una pena diciamo di tantalo una pena proprio infernale o almeno purgatoriale a trascinare qualcosa molto molto pesantemente e lentamente e qui invece abbiamo questa questa sala in cui sono concentrate questi personaggi questi questi esseri che vivono evidentemente in una situazione di disagio un alienata e colta mentre sta minacciando col pugno alzato un interlocutore invisibile contro chi ce l'ha questa piatta questa pazza che sta alzando il pugno contro chi contro che cosa che cosa vuole recriminare un'altra sul lato opposto del locale passeggia confusamente per la stanza forse un pensiero fisso una di quelle alienazioni ci viene in mente gerico avrete visto il ritratto ad esempio della monomane della pazzia dell'invidia eccetera nei quadri di gerico si tratta comunque di luoghi che nessun artista prima aveva rappresentato e quindi è molto rivoluzionaria l'arte di telemaco signorini perché ci mette di fronte a un qualcosa di come dire qualcosa di che che deve che sarebbe meglio nascondere sarebbe di cui sarebbe opportuno non non vedere i particolari no invece lui ci sbatte davanti si tratta appunto di un procedimento non solo artistico ma io direi quasi addirittura civico ecco di consapevolezza di esempio di come vivono certi uomini avevo visto prima gli alzaioli certe donne come queste agitate in questo in questo manicomio ecco alcune donne stavano sonnecchiando altre forse gridano oppure hanno uno sguardo assente perso nel vuoto una arriva persino a raggomitolarsi sotto un tavolo cercando rifugio sotto il tavolo qui vedete nascosta qui sotto questo tavolo c'è lo spazio prospettico che trova però il suo punto di fuga all'esterno del quadro e non all'interno come rappresentare ancora di più una mancanza di razionalità di di un centro ecco del presente nel quadro come invece accadeva spesso nella prospettiva rinascimentare quando il punto di fuga era interno al quadro allora lo spettatore guarda istintivamente verso destra per cercare forse un senso per cercare questo punto di fuga e non lo trova perché oltre il quadro il quadro stesso da destra proviene la luce che inonda l'opera le lunghe le ombre sono molto lunghe quindi una luce che proviene quasi diciamo perpendicolare insomma all'asse verticale del quadro c'è un ampio ricorso a gamme scure terrose alcuni particolari che si vedono a fatica perché non sono illuminati dal sole e altri invece come questi muri abbiamo visto anche nel quadro sull'artiglieria si stagliano in maniera decisamente più netta ecco è evidente che questi contrasti servono a rappresentare probabilmente il dramma del disagio psichico di queste agitate che sono costrette a sopravvivere in questo stanzone con un cancello al posto della porta c'è un cancello proprio a testimoniare che questo essenzialmente è una prigione in buona sostanza il dipinto suscitò scalpore per la crudezza come ci testimonia giuseppe giacosa che scrive la sala delle agitate al manicomio di firenze è un dipinto che vi mette addosso i brividi della paura vuole scuotere quindi il borghese quel borghese famoso che prima abbiamo visto non si lascia scuotere dalla vicinanza di quegli operai ecco a questo forse si rivolge telemaco signorini sbattendoli in faccia questa situazione sociale e penosa i brividi della paura mette addosso è un quadro che non mi piace scrive giuseppe giacosa ma che esercita le spaventose attrazioni dell'abisso e che si rivela nell'autore una giustezza e una robustezza quali a pochi e dato di raggiungere l'opera richiama il metodo scientifico sostenuto dal naturalismo il pittore dipinge il nudo e bianco stanzone senza sentimentalismi la realtà è così ecco un po per esempio ci sono anche gli scapigliati che fanno delle opere d'arte in cui ci rappresentano una realtà scomoda una realtà fastidiosa quindi per esempio la morte gli scheletri la malattia la scelta del soggetto ha un forte significato di denuncia sociale vediamo cosa scrivono cricco e di teodoro che sono dei critici d'arte l'occhio di signorini è più oggettivo che pietoso è proprio per questo l'esito appare ancora più inquietante in quanto follia disagio e miseria ci sono più vicini di quanto immaginiamo e sicuramente anche di quanto vorremmo bene telema con signorini ha poi dipinto molti soggetti diciamo en plein air chiamiamoli così cioè paesaggi l'abbiamo detto anche prima insieme ai suoi amici macchiaioli o anche da solo vediamo se riusciamo però a vederli questi dipinti eccoli qua ecco per esempio anche comunque con questi muri che sono con questi contrasti di luce forti con questi personaggi borghesi che passeggiano oppure con questi dipinti che dove i tratti umani sono decisamente più vaghi e quindi appunto come delle macchie di colore ecco poi con dei ritratti ma passiamo subito visto che purtroppo non ho le slide di alcuni dipinti che magari vi faccio vedere la prossima volta a vedere un quadro di parecchi anni dopo dopo aver visitato l'isola d'elba evidentemente il nostro pittore fu molto colpito dal bagno penale di porto ferraio praticamente dal carcere di porto ferraio porto ferraio è una città appunto un porto una delle città più più grandi importanti dell'isola d'elba ecco qui signorini si allontana dal tema dei paesaggi che era comunque un tema che lo affascinava e si avvicina a una pittura psicologica rivolta al ruolo dell'uomo all'interno della società come si osserva qui così come in altri quadri come abbiamo già visto l'alzaia la sala delle agitate e poi vedremo l'ultimo quadro di cui parleremo cioè la toilette del mattino insomma qua si parla del carcere come prima si è parlato del manicomio oppure dello sfruttamento diciamo degli operai e poi vedremo nella toilette del mattino la prostituzione così viene rappresentata senza nessun neanche paternalismo abbiamo visto prima era la caratteristica anche del quadro della sala delle agitate non c'è pietà commiserazione c'è la rappresentazione di una realtà nuda e cruda è proprio per questo anche più inquietante anche violenta no perché questi detenuti sono costretti a a vivere con una sorta di di divisa a righe tutta la loro vita a stare in piedi sono attenti quando passano il direttore del carcere e gli altri secondini insomma una condizione veramente pietosa disposti in due file parallele le divise sono tutte uguali con un'ampia casacca e un paio di pantaloni a righe i polsi sono incatenati da una pesante catena alcuni hanno un'espressione abbattuta e stanca altri sono quasi incuriositi dai secondini dai funzionari che avanzano nel corridoio scortati dagli agenti per il resto l'ambiente estremamente spoglio queste mura muri meglio di questo salone perché sono interni non sono esterni non hanno alcuna non c'è niente insomma che sia appeso ad esempio a queste pareti e queste pareti sono anche prive di intonaco come a dimostrare ancora di più la mancanza di di una cura e di una bellezza del luogo che deve essere appunto così anonimo spoglio per moltiplicare la pena dei dei detenuti la finestra emana una luce bianca ostile fredda lo sfondo sfocato e in contrasto con i contorni marcati dai carcerati tutto questo trasmette tensione l'abbiamo già visto lui riesce a esprimere la tensione attraverso questi contrasti di colore attraverso i contorni marcati da una parte oppure sfocati dall'altra e arriviamo pertanto adesso all'ultimo bellissimo quadro che che dobbiamo vogliamo commentare ah sì questo è sulle colline a settignano l'abbiamo trovato questo quadro qua quindi ci siamo a posto perché ci mancava proprio questo quadro da commentare e quindi torniamo indietro di qualche anno perché bagno penale a portoferraio è del 93 94 invece sulle colline a settignano è del 1885 qui signorini usa il tema del paesaggio come un pretesto per rappresentare un frammento di vita quotidiana lo sfondo è naturale con le colline un paesino di campagna che fanno da cornice al ritratto di fanni una ragazzina seduta su un muretto figlia adottiva del pittore tra l'altro ecco anche da un punto di vista sentimentale insomma tema con signorini ha una vita abbastanza viva vivace rappresentata in molti suoi quadri fanni era quindi una sua figlia adottiva cui teneva molto la ragazza ci viene mostrata mentre lavora all'uncinetto tutta concentrata sul movimento delle mani vestita interamente di bianco contrasta con la carnagione che quindi un rosa abbastanza acceso i capelli scuri e anche i colori chiari contribuiscono ad aumentare questa sensazione le pennellate si differenziano le macchie costruiscono ogni elemento dello sfondo la collina il paesino gli arbusti dietro la ragazza e il muretto di pietra nonostante l'assenza di definizione dei singoli dettagli si colgono con chiarezza i caratteri degli elementi dipinti il senso della prospettiva e di lontananza del paesaggio il fitto groviglio dei viticci in secondo piano la ruvidezza del muretto sbrecciato si avverte anche la presenza fisica di fanni dipinta con pennellate più piccole fitte e precise perché si trova più vicina allo spettatore quindi più definita ecco mi piaceva quindi trovare per fortuna sono riuscito a trovarlo questo altro quadro perché mi era piaciuto moltissimo anche perché come abbiamo detto telemaco signorini era decisamente attratto dalla realtà voleva accogliere dei momenti della realtà come questo appunto della sua figlia adottiva che che sta lavorando all'uncinetto non si accorge tra virgolette del padre che la sta ritraendo quindi realismo quindi vita quotidiana contrasti di colori paesaggi ma anche muri mura eccetera sbrecciate come come in questo caso ecco questo è il dipinto di rio maggiore chiacchiere a rio maggiore che abbiamo già visto in precedenza e adesso dobbiamo cercare l'ultimo quadro forse uno dei più famosi di telemaco signorini che è la toilette del mattino anche uno degli ultimi perché è stato realizzato nel 1898 nel senso che telemaco signorini è morto subito dopo il novecento insomma infatti abbiamo già detto all'inizio siamo al 1902 andiamo a controllare ecco non abbiamo detto ah no 1901 muore a firenze il 10 febbraio del 1901 quindi fate conto due o tre anni massimo dopo aver fatto dopo aver dipinto questo quadro ecco questo quadro esattamente come il bagno tenere a portoferraio la sala delle agitate sicuramente fu scandaloso per tutti quelli che che lo videro perché mai nessun pittore aveva dipinto l'interno di un bordello infatti questo è una casa una casa abbastanza famosa nel centro di firenze perché era una casa di appuntamenti solo che questa casa di appuntamenti è rappresentata in un momento un po particolare non per esempio di sera quando probabilmente è tutta piena anche di clienti forse c'è un cliente sullo sfondo ma si può dire che invece l'attenzione principale è concentrata su queste ragazze quindi su queste prostitute in un momento molto semplice della loro vita quotidiana cioè quando si svegliano e si mettono a imbellettarsi a prepararsi e a toccarsi anche un'opera impegnativa di difficile comprensione che cosa ha voluto rappresentarci cosa ha voluto trasmettere telemaco signorini con un soggetto così difficile da rappresentare da accettare ai giorni nostri provate a immaginare a quel tempo come fu davvero scandaloso un quadro del genere beh la bellezza di questo quadro è dovuta alla capacità di rappresentare con disinvoltura una scena nella quale le ragazze compiono un gesto quotidiano si preparano e si vestono dopo il risveglio mattutino e così come era avvenuto con il bagno penale di portoferraio la sala delle agitate è evidente che l'attenzione di telemaco signorini attraverso questi quadri di denuncia sociale anche si sposta sulla psicologia dei personaggi e anche sul ruolo che questi personaggi svolgono all'interno ricoprono all'interno della società una realtà dicevamo indigesta scomoda per il pubblico borghese che che vedeva questi quadri e rimaneva abbastanza scandalizzato questo quadro non fu mai inviato ad un'esposizione telemaco signorini lo tenne nascosto nel suo studio ma dopo la morte quest'opera divenne una delle sue opere più significative tanto che il famoso direttore d'orchestra arturo toscanini quando passò da firenze per appunto dirigere un concerto compro questo questo quadro questa tela nel 1930 e il regista lucchino visconti fu talmente colpito da questo quadro che alcune scene del film senso nel 1954 furono ispirate da questo quadro mi viene un po da ridere perché proprio tra qualche giorno parleremo della vita agra di luciano bianciardi e si fa riferimento a questo film nella vita agra come esempio di un del passaggio dal neorealismo al realismo insomma abbiamo completato così il trittico naturalista umanitario civico civile e sociale che era iniziato con la sala delle agitate ma se vogliamo un trittico un insieme di quattro quadri che abbiamo visto oggi importanti di denuncia sociale il primo l'alzaia vi ricordate sullo sfruttamento degli operai il secondo la sala delle agitate sul manicomio il terzo il bagno penale a portoferraio manicomio e carcere come luoghi che sono allontanati dalla dalle convenzioni borghesi perché perché i borghesi si sentono tranquilli solo se quelle persone lì si trovano lontane da loro rinchiuse perché in questo modo non turbano la loro la tranquillità borghese e poi fine questo appunto della teoretta del mattino in un in un bordello un borghese medio sta alla larga da questi quadri questi quadri addirittura non vengono neanche esposti perché sono scandalosi per l'epoca ma questi quadri ci testimoniano della grandezza di questo pittore che riconosciuta non solo in italia ve l'ho già detto anche prima si è trattato di uno dei pochi pittori italiani dell'ottocento che ha avuto riconoscimenti anche all'estero e contatti numerosi contatti anche con pittori stranieri grazie a tutti grazie a tutti